Ah, è uguale? Che cos'è? È una cannetta. Non ho liberalizzato forse? Eh? Siamo in Olanda? Ci sono dei mulini a vento, vedete dei tulipani? A me non pare. Che fastidio di ridare, sono ragazzi. C'è una legge che va rispettata. È una legge brutta, 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 brutta. È una legge che fa che non vi ammazziate. Non ci ammazziamo. È solo uno spinello, dai Chiara, non fare così. È solo uno spinello, dai Chiara, non fare così. Come chiamare Chiara? Come ti chiami? Chiara. Questa legge ci equipara all'eroina. L'eroina è una cosa brutta, brutta, brutta. Mentre fumo rilassa. Rilassa, esatto. Per parlare con te di legge, darmi sta... No. 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 Hanno investito la canna. Oh, ma sei proprio incazzata te. Ma tu sei incazzata, io ho capito perché. Perché lui ci ha dato un passaggio, eh? Ho capito? Stop. Ha capito. Che altro ha capito? Ho capito che tu sei incazzata da una vita con lui. Però il perché non lo so. Ho indovinato? Ho indovinato. Per spiegarsi. È la mia ragazza. È intelligentissima. Grazie, fratello. Grazie, fratello. Grazie, fratello.